oh grazie di cuore fatevi sentire a quelli che hanno paura di perdere la poltrona fa una settimana tanta roba tanta roba come dicono i giovani eh in bocca al lupo l'impegno è che Ancona sia Ancona per tutti che non ci siano quartieri dove chiacchieravo con qualcuno delle associazioni piuttosto che della polizia dove magari la sera è meglio che le ragazze non passeggino quindi che il sindaco porti luce bellezza lavoro e sicurezza anche agli anconetani che vivono al quartiere del piano anche a chi vive nella zona di in piazza Ugo Bassi non ci possono essere zona di Ancona dove gli italiani sono minoranza immarginata perché l'accoglienza che è sacrosanta però conosce dei limiti conosce dei numeri conosce delle regole e quindi sono contento che proprio in questi giorni grazie a un governo compatto come non mai tornino ad esempio in Parlamento quei decreti sicurezza che sanciscono un principio l'Italia alle porte spalancate Ancona alle porte spalancate per chi scappa davvero dalla guerra ma non può essere solo l'Italia ad accogliere immigrati che sbarcano da tutto il mondo non ce la facciamo e quella Europa che vorrebbe imporci le auto green le case green le bistecche sintetiche il formaggio finto invece di entrare in casa nostra apra le porte di casa sua per accogliere un po' degli immigrati che stanno sbarcando sulle nostre coste e lasci che siano gli italiani a decidere se come cambiare macchina e se come sistemare casa questo non lo decide il sindaco però il sindaco ovviamente a voce in capitolo però da segretario della Lega questa è la politica nazionale da ministro delle infrastrutture e dei trasporti e apro la parentesi sentivo che ha parlato prima di me devo dire che in questi sei mesi e mezzo non ho trovato in Giorgia e in Silvio e nei ministri dei colleghi ho trovato e ogni giorno di più scopro degli amici ed è questa la differenza è questa la differenza fare politica per interesse o per convenienza oppure al di là delle sedute in Parlamento in Commissione in Consiglio dei Ministri trovarsi ragionare ridere scherzare e non vedo l'ora di riabbracciare anche Silvio Berlusconi che è assolutamente unico inimitabile irraggiungibile da tutti i punti di vista e quindi penso che vedere una marea di gente come questa in una città che lo diceva Daniele da trent'anni vota a sinistra quindi io penso che dopo trent'anni un po' di cambiamento sia opportuno dipende da voi come ministro però è mio dovere venire questo lunedì sera in piazza Dancona portando anche dei risultati e degli impegni e ne porto tre a chi sarà in comune da settimana prossima primo se ne parla da tanti anni senza che mai nessuno abbia fatto niente o quasi il porto di Ancona l'impegno è di invitare il governatore Acquaroli il presidente del porto e il prossimo sindaco di Ancona entro giugno al ministero delle infrastrutture di trasporti per il nuovo progetto e il finanziamento del nuovo porto di Ancona entro giugno duemila e ventitré non duemila e trentatré quindi segnino pure i colleghi giornalisti sul taccuino quindi serve un nuovo piano regolatore io ero settimana scorsa a inaugurare l'inizio dei lavori della diga sul porto di Genova la più grande opera di ingegneria idraulica al mondo un miliardo di interventi per far entrare nel porto a Genova le navi più moderne che portano migliaia di container che significa lavoro e significa ricchezza quindi un nuovo piano di sviluppo per il porto e per l'interporto di Ancona che significa lavoro per migliaia di giovani numero uno questo si può fare entro giugno e vi porto anche una buona notizia delle ultime ore entro il mese di maggio e dipende da me non dipende da altri non mi piacciono quelli che accampano scuse cercano sempre in casa altrui quello che non funziona entro il mese di maggio ci sarà l'approvazione da parte del consiglio superiore dei lavori pubblici e dentro il mese di giugno partirà la gara per 621 milioni di euro per l'orte falconara per il raddoppio di un altro pezzo che va a completare la da quanti anni sentite parlare del raddoppio della orte falconara ecco io sono entrato in quel ministero abbiamo aperto i cassetti come magari farai tu dopo 31 anni un po' impolverati quei cassetti e tutto quello che i comitati del no e quelli che dicono di no a tutto hanno bloccato per 50 anni noi in questi anni lo portiamo a campimento porti aeroporti strade autostrade ferrovie ponti abbiamo fatto già più di una riunione sulla quattordici con autostrade per l'italia per avere una nuova gestione dei cantieri perché non si può morire andando al lavoro portando i figli al mare in un fine settimana e non si può stare perenemente in coda il ministro di infrastrutture stamattina è partito da siena poi è andato a perugia poi è andato a terni poi è arrivato ad ancona e stasera finisce a porto sant'elpidio e io voglio vedere i professionisti del no che dicono che non servono nuove strade e nuove ferrovie vi do la mia parola tiro dritto come un treno e si fa quello che si deve fare e se c'è qualcuno che non è d'accordo pace bene fratelli d'altronde mi pagate lo stipendio per questo e c'era un giornale di sinistra che settimana mese scorso per attaccarmi ha detto però il ministro dei lavori pubblici è troppo spesso a visitare i cantieri e che devo fare vengo a giocare a burraco ad ancona vado vado in spiaggia no devo aprire cantieri e vado a visitare i cantieri e se c'è qualche pseudo comitato pseudo ambientalista e lì c'è la lucertolina e c'è il ghiro c'è la lontra c'è l'uccellino la lucertolina si sposta l'uccellino si sposta il ghiro si sposta i marchigiani hanno diritto di andare a lavorare in santa pace senza perdere ore e ore in coda o spettando un treno così è se vi pare diceva il saggio quindi porto interporto orte falconara e poi l'ultima settimana è un voto degli anconetani per ancona quindi da autonomista non vengo da milano a spiegare come si deve vivere ad ancona però sicuramente è un voto anche di valori tu hai un programma molto concreto molto bello che parla di scuole parla di parcheggi parla di residenze per anziani parla e te ne sono grato ed è per questo che la lega fin dallo scorso governo ha chiesto l'istituzione di un ministero che non c'era parla di abbattimento delle barriere architettoniche perché ancona sia bella per tutti parchi giochi per bimbi disabili accessibilità per chi non ce la fa quindi però è anche una scelta di valori e ne faccio due esempi e poi do il microfono a giorgia c'ho il microfono prende c'ho il microfono della cgl no no è ripartito è andato pensavo che landini si fosse incuneato oppure scorgevo ecco però una cosa devo dire hai un ottimo personal shopper che ti ha non male non so se c'hai anche l'armo cromista però mica male siamo siamo abbastanza belli uguali però due riflessioni perché è una scelta per ancona per il quartiere del piano per il porto per le vostre splendide spiagge e a proposito onori e onere ne parliamo da tanti anni da ministro dell'infrastruttore dei trasporti spetterà a me non vedo l'ora di cominciare la famosa mappatura delle spiagge italiane per garantire ai balneari poter continuare a fare il loro lavoro e di poter continuare a gestire il loro sacrificio come fanno da tanti anni senza che arrivi qualcuno da lontano a prendersi il mare dei marchigiani e ci siamo capiti due riflessioni una a proposito di chi ha trecento euro per pagare il personal shopper noi il primo maggio su iniziativa di Giorgia e la ringrazio ancora in consiglio dei ministri abbiamo approvato non un miracolo ma un decreto lavoro che porta in busta paga di operai lavoratrici lavoratori commesse bidelli e dipendenti dei supermercati dipendenti pubblici la stragrande maggioranza di chi c'è in questa piazza e guadagna mille e mille e cinquecento al massimo duemila euro al mese ebbene per tutto il duemila ventitré ci sarà un aumento di stipendio che può arrivare fino a cento euro al mese e penso che aiuteremo tante famiglie a fare una spesa in più a fine mese perché con mille e duecento euro al mese altro che auto elettrica e personal shopper ebbene c'è un partito che una volta era il partito dei lavoratori che quando ero ragazzino io e facevo il liceo classico a Milano ho fatto la prima tessera della Lega era lontano millenovecentonovanta e c'era il pc che poteva piacere non piacere però era un partito serio che parlava di fabbriche di operai di artigiani di pescatori di insegnanti di precari di chi aveva i calli sulle mani ecco io penso che quello che era un partito serio che una volta rappresentava la sinistra le fabbriche gli operai e i camionisti mai nel duemila e ventitré si sognerebbe di dire faremo le barricate per impedire l'approvazione del decreto lavoro per impedire l'aumento delle buste paga degli operai noi abbiamo una sinistra marziana in italia non è il partito degli operai è il partito dei milionari che abitano nella ztl è monopattino elettrico e auto elettrica da centomila euro al mese è l'unico contatto che hanno con l'immigrazione è quello del personale di servizio che gli tiene i bambini per far vacanza d'estate e quindi è questo io spero che questi soldi in busta paga ci arrivino e poi un'ultima riflessione abbiamo parlato di cose concrete quindi di lavoro di porti di stipendi di bolkestain di disabilità di futuro di ancona però è anche un voto di valori anche una scelta valoriale quella che voi farete domenica e lunedì io non dico io non mi sento superiore a nessuno su questo palco in questa piazza non c'è nessuno che si sente superiore a qualcun altro per razza per censo per professione per per estrazione culturale però abbiamo dei valori che sono radicati e domenica prossima quando si vota domenica 14 maggio è la domenica del voto e del cambiamento storico per ancona perché dal dopoguerra ad oggi finalmente ci sarà il primo sindaco di centrodestra della città di ancona e già questo però perché parlavo di differenza non di superiorità io non mi sento superiore a nessuno però credo in un paese diverso perché ho dei valori diversi domenica 14 maggio e ce ne sono tante in questa piazza è la festa della mamma non è la festa del genitore uno del genitore due o del genitore tre è la festa della mamma perché la mamma e la mamma e il papà e il papà e il bimbo viene al mondo se ci sono una mamma e un papà sembra rivoluzionario da dire oggi eh sembra rivoluzionario però la cosa che mi ha lasciato più sconcertato rammaricato dall'elezione del nuovo segretario del partito democratico che rispetto che però dice cose su cui non sono assolutamente d'accordo e quando fra le altre cose ha dichiarato noi ci siamo permessi un sorriso sull'arma economista ma ognuno i suoi soldi li spende come vuole per carità di dio però su altre cose invece io farò battaglia finché campo perché non sia così e la cosa che più mi ha stupito in negativo mi ha sconcertato ma mi ha fatto rabbrividire a caponare la pelle e quando dalla donna che guida il partito democratico sono uscite da quella bocca le parole favorevoli a una pratica barbara disumana aggressiva bestiale medievale che è l'utero in affitto la donna non è un utero in affitto il corpo della donna non è merce non è non è merce ognuno la pensa come vuole i diritti lgbtq per carità di dio ognuno vive la sua vita privata come vuole il suo amore che come vuole le sue relazioni che vuole però e portatevi solo questi 15 secondi a casa perché viviamo nella società in cui tutto passa in fretta e e tic toc e birria la instagram netflix amazon deliveru queste tre parole lasciamole un attimo sedimentare nel nostro cuore utero in affitto tradotto donna in difficoltà economica che vende il suo corpo a qualcuno che ha un ricco conto in banca che per nove mesi porta in grembo una creatura che poi non vedrà crescere perché qualcuno se la compra e se la porta a casa sua la donna non è in affitto in vendita donne uomini sono liberi ma non in vendita è barbarie come fai a parlare di diritti civili e poi dire che sei favorevole all'utero in affitto o peggio ancora alle droghe libere perché chi consuma droga e poi va in giro a far casino è meglio un bicchiere di rosso marchigiano uno da ministro dei trasporti uno non di più sto lavorando abbiamo fatto il nuovo codice degli appalti che mette in mano ai sindaci cantieri più veloci appalti più veloci sto lavorando anche al nuovo codice della strada perché possiamo fare le strade più larghe moderne però bisogna usare la testa c'è qualcuno che ha bisogno a posto signora mi vuole vedere non si perde niente signora sia tranquillo no pensavo fosse successo qualcosa no lascia lascia lì e quindi nuovo codice della strada perché se uno guida drogato ubriaco e ammazza un altro essere umano la patente non gli va sospesa la patente gli va ritirata finché campa perché è un rare umano e perseverare diabolico se ti metti alla guida drogato ubriaco marcio sei un potenziale assassino e non abbiamo bisogno di te perché le vite vanno salvate quindi sindaco in bocca al lupo certo poi ne parlavo anche gli autovelox vanno messi in posti intelligenti per salvare le vite fuori dalle scuole fare gli ospedali non vanno installati solo per fare cassa sulla pelle di chi va lavorando la mattina sera questo un conto è metterlo dove qualcuno rischia la vita un conto è metterlo di nascosto dove dove al comune interessa solo far quattrini però l'ho già fatto mezzo programma di governo io ringrazio gli anconetani marchigiani gli italiani perché dando il voto al centrodestra nel mese di settembre mi hanno regalato un'emozione straordinaria perché lavorare con giorgia è uno dei regali più belli che gli italiani il buon dio mi potessero fare e quindi giorgia antonio silvio il buon depoli tutti quanti quindi io aspetto il prossimo sindaco di ancona a giugno al ministero per parlare del futuro del porto e del lavoro di ancona se il prossimo sindaco di ancona sarai tu e allora io sarò molto felice di incontrarti grazie viva ancona e permettetemi viva la lega e viva tutti i candidati che stanno correndo per il centrodestra in bocca al lupo preferenza per preferenza via per via negozio per negozio anche al quartiere del piano grazie grazie Matteo grazie rimani qui a questo punto no no